C'è paura, c'è sempre tensione, uno non può neanche uscire di casa, andare a lavorare, andare a fare un regalo, che rischi queste cose qui. Arezzo, città del Natale, da tre fine settimana attrae migliaia e migliaia di turisti. Dopo i fatti di Strasburgo ovviamente si cerca di scacciare lo spettro, la paura del terrorismo e si cerca di dare un messaggio invece di serenità, di tranquillità. Gli operatori ci hanno detto non abbiamo paura, anzi venite ad Arezzo perché è una città sicura. C'è paura da questo punto di vista? Ma non credo, non credo di nozzo. Come la vivete? Tranquilla. Diciamo che ormai purtroppo è una cosa che è diventata quasi una prassi tutti gli anni per i mercatini di Natale, specialmente in Francia. Speriamo bene. Per il momento l'assessore al turismo del comune di Arezzo, Marcello Comanducci, ci conferma che non ci sono altre misure straordinarie di sicurezza, ma è facile ipotizzare che l'argomento sarà affrontato in un incontro prossimo con le forze dell'ordine. L'attenzione era già massima in virtù delle disposizioni del decreto Minniti. Già la scorsa domenica il questore di Arezzo, Bruno Failla, aveva annullato la sfilata delle principesse Disney in Piazza Grande perché troppo affollata. Le zone dove c'è molta gente sono sempre a rischio, ma come qui, come migliaia di altri posti in Europa, quindi non creerei allarmismo. Anzi, venite sempre di più, perché Arezzo non è comunque una città sicura e siamo sicuri. Dai, venite, venite.